È il momento di fare un po' il punto della situazione su questa Pistoiese, mancano tre partite alla fine della stagione, una Pistoiese che con i tre punti conquistati a Renate si è quasi sicuramente salvata, manca un solo punto per la salvezza matematica, però può ancora sperare in qualcosina di più? Sì, sicuramente la vittoria di Renate ci fa stare più tranquilli con un buon margine sulle quint'ultime, però sabato affronteremo una partita difficile contro l'Olbia e quindi credo che sabato dovremo mettere tutto il nostro impegno per tagliare il traguardo della salvezza matematica a tre giornate dalla fine e sarebbe comunque un buon risultato. Per il resto, per i play-off, credo che a questo punto sia molto difficile, però noi dovremo provare a giocare le ultime tre partite che rimangono, cercando di fare più punti possibile e poi dopo la partita con il Livorno, che è l'ultima di campionato, tireremo le somme. Ad oggi una Pistoiese che è sempre rimasta un po' nel limbo durante la stagione, c'è qualche rimpianto oppure ancora presto per parlare di bilanci? Sicuramente mancano tre giornate alla fine, credo che un po' tutti noi, quindi sia noi addetti ai lavori che anche voi, aspettiate sicuramente il verdetto della classifica alla fine del campionato. È chiaro che rimpianti ci sono perché chi ha seguito la squadra ha visto le prestazioni, ha visto tanti punti lasciati per strada, però ripeto, dobbiamo cercare di fare il massimo da qui alla fine e poi sarà il tempo di bilanci. Sicuramente il cambio d'allenatore è servito per rimettere in discussione la squadra, chi scendeva in campo, le motivazioni, l'organizzazione di gioco, quindi per cercare sicuramente di far meglio di quello che stavamo facendo. Io credo che la squadra, dall'avvento di Azzoni in poi, abbia sicuramente dato e fatto qualche cosina in più. Poi se questo non sarà bastato, non basterà per raggiungere il decimo posto. Io credo che il fatto di averci provato, di averci creduto e di aver fatto tutti gli sforzi necessari per raggiungere un traguardo importante e che credo che comunque ne sia valsa la pena. Il mister ha un contratto fino a giugno, ha un'opzione per il prossimo anno, sta lavorando bene, quindi come con altri giocatori, con il direttore sportivo, a fine campionato ci metteremo a sedere con lui. Se ci saranno i presupposti, la volontà reciproca, i programmi con Limano, sicuramente potremo andare avanti. Grazie. 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 Grazie.